L'ultima giunta comunale ha stabilito che dallo scorso primo ottobre cambierà la tariffa per il parcheggio del fossato del castello Angioino Aragonese. Infatti sarà ridotta ad un euro per la prima ora ed un euro per ogni ora successiva. Con la vecchia tariffa invece l'importo da pagare era di due euro per la prima ora e tornerà ad essere applicata dal prossimo primo giugno. La delibera era stata proposta dal sindaco Coppola alla giunta comunale formata da Santo Suosso, D'Arienzio, Mutalipassi e Lampasona ed è stata approvata il giorno 26 settembre. Nonostante ciò continuano le lamentele riguardo la situazione parcheggia ad Agropoli dove i posti auto sono quasi tutti a pagamento, soprattutto nel centro città, nelle zone principali e lungo il litorale. Le aree di sosta a pagamento stanno aumentando sempre di più e secondo l'opinione pubblica questo è solo un modo per aumentare gli introiti da parte dell'amministrazione che non gode di una situazione economica particolarmente favorevole.